Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire l'amplificatore AIMA A3001. Questo è un amplificatore molto particolare in quanto è un amplificatore mono, quindi amplifica il segnale solo di un canale. Ha inoltre la possibilità di inserire un filtro passabasso, il che lo rende perfetto per amplificare un subwoofer. Ma un altro uso interessante che possiamo fare di questo amplificatore è la biamplificazione. Infatti, utilizzando due di questi amplificatori, possiamo andare a biamplificare una coppia di diffusori. Questa modalità di utilizzo la vedremo però nel prossimo video. Vi ricordo quindi di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime recensioni. Partiamo subito con l'unboxing. L'amplificatore mi è arrivato da Amazon direttamente il giorno dopo che l'ho acquistato e oltre alla confezione che vedete sul tavolo aveva anche un altro imballo in cartone che però io ho già tolto. Una volta aperta la scatola, che presenta anche il nome dell'azienda, troviamo la solita garanzia in cinese. Poi il manuale di istruzioni, che è scritto in inglese e cinese. Poi troviamo il solito adesivo a IMA. Poi un cavo di alimentazione. E poi l'alimentatore, che è molto grande, da 36V 6A, quindi una potenza totale di 216W. Poi in una busta di plastica troviamo l'amplificatore vero e proprio, che è molto compatto e molto ben realizzato. Infatti la finitura è molto bella. Andiamo ora a vedere il pannello frontale. Per prima cosa troviamo il tasto di accensione, che ci permette appunto di accendere e spegnere il dispositivo. Sotto di esso è presente un piccolo LED che si illumina di rosso quando il dispositivo è acceso. Successivamente troviamo la levetta che ci permette di commutare tra funzionamento in PBTL, quindi in questo caso viene escluso il filtro passabasso e l'amplificatore diventa un semplice amplificatore mono. Quindi riceve un segnale in ingresso e lo amplifica semplicemente. Mentre se la levetta è posizionata nella direzione sub, il filtro passabasso viene attivato e quindi diciamo che l'amplificatore è configurato per funzionare con un subwoofer. Detto in parole povere, il filtro passabasso non è altro che un filtro che va a togliere tutte le frequenze alte dal segnale e lascia solo le frequenze basse. Poi troviamo un piccolo potenziometro che serve appunto a regolare la zona di intervento del filtro passabasso. In particolare se lo teniamo al minimo al subwoofer arriveranno le frequenze sotto i 40 Hz, mentre se lo teniamo al massimo le frequenze sotto i 300 Hz. Troviamo poi infine la manopola del volume che ci permette di regolare il volume dell'amplificatore. Andiamo ora ad analizzare il pannello posteriore dell'amplificatore. Troviamo due ingressi RCA destro e sinistro. Non ha molto senso la distinzione destro e sinistro visto che entrambi gli ingressi vengono poi sommati all'interno dell'amplificatore per produrre quindi un unico segnale mono. Poi abbiamo un'uscita subout che è praticamente un'uscita di linea che viene prelevata dopo il filtro passabasso. Poi abbiamo i connettori per l'altoparlante o il diffusore, quindi polo positivo e rosso e polo negativo e nero. Infine abbiamo poi l'ingresso per l'alimentatore. In particolare ci viene indicato che accetta tensioni dai 24V ai 48V. Andiamo ora a vedere brevemente le caratteristiche tecniche che ci dichiara il costruttore. Ci dice che il chip di amplificazione in classe D che viene utilizzato è il TPA3255D2 della Texas Instruments che è un chip molto famoso per il suo rapporto qualità-prezzo e soprattutto in termini di potenza, pulizia del suono e bassa distorsione. Il TPA3255 è un chip stereo e in questo amplificatore che è mono viene utilizzato in modalità PBTL. Sostanzialmente i due canali vengono messi in parallelo, questo permette all'amplificatore di reggere carichi molto più bassi quindi diciamo che con un TPA3255 configurato in PBTL si riesce tranquillamente a pilotare anche un diffusore da 2 Ohm. Poi ci viene indicato che vengono utilizzati degli op-amp, in particolare degli NE5532. Poi DC chip 2596, sinceramente non so a cosa si riferisca. Poi abbiamo la risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz, più o meno 3 dB. Andremo a verificare poi anche questo dato nelle misure. Poi l'impedenza altoparlante che si riferisce all'impedenza degli altoparlanti che possiamo collegarci, che va dai 2 agli 8 Ohm. Poi la distorsione che è dello 0,03% quando si emette 1 Watt. Poi viene indicata la tensione a cui può essere utilizzato, che è da 24 V a 48 V. Ovviamente più il voltaggio è alto, più sarà alta la potenza che l'amplificatore riesce ad erogare. Ovviamente l'alimentatore deve avere anche degli ampere adeguati. Poi viene indicato il rapporto segnale rumore, che è a maggiore di 106 dB, molto buono. La sensibilità di ingresso che è di 0,77 V. Ciò sta a indicare che con 0,77 V di segnale in ingresso, al massimo volume, abbiamo la massima potenza dell'amplificatore. Poi le dimensioni che sono di 12 cm per circa 12 cm per 3,6 cm di altezza. Poi i tagli del filtro crossover che vanno da 40 Hz a 300 Hz. E viene indicata anche la pendenza del filtro che è di 12 dB per ottava. E infine viene indicato l'alimentatore che è da 36 V sempre. Andiamo ora a smontare l'amplificatore per vedere come è fatto l'interno. Basta rimuovere le viti del frontale e anche le viti del pannello posteriore. In questo modo si riesce ad alzare il coperchio e possiamo vedere all'interno. Da questa foto riusciamo a vedere meglio l'interno dell'amplificatore. Il circuito si presenta ben realizzato e anche ben ingegnerizzato dal mio punto di vista. Per prima cosa possiamo notare il grande dissipatore che occupa gran parte del circuito. Sotto di esso è presente il chip TPA3255 di amplificazione e appunto il dissipatore ha il compito di dissipare il calore che questo amplificatore produce. Poi troviamo cerchiate in rosso le due induttanze di filtro che sembrano di ottima qualità e anche predisposte a sopportare una gran potenza. Unica piccola nota, l'induttanza in basso non è perfettamente centrata sulla posizione del circuito, però una cosa che è totalmente ininfluente ai fini del funzionamento dell'amplificatore, più una roba estetica. Poi troviamo due coppie di condensatori elettrolitici che sono posti sul ramo di alimentazione e fungono da riserva di energia per l'amplificatore. Infine poi nella parte posteriore troviamo anche i due condensatori di filtro. Ora passiamo alla parte delle misurazioni. E come primo grafico vediamo quello della risposta in frequenza sul variare del carico. In particolare abbiamo la curva azzurra che ci va a vedere la risposta in frequenza su un carico da 2 Ohm, la curva blu che ci indica la risposta in frequenza su un carico da 4 Ohm e la curva viola che ci indica la risposta in frequenza su un carico da 8 Ohm. Come possiamo vedere per quanto riguarda le medie e basse frequenze, la variazione è di circa 0,2 dB tra quella da 8 Ohm e da 4 Ohm e di circa mezzo dB tra la risposta su 2 Ohm e quella da 4 Ohm. Quindi la variazione è molto minima. Per quanto riguarda la risposta sulle altissime frequenze abbiamo invece la solita dipendenza dal carico dovuto al filtro di uscita del classe D. In particolare a 20 KHz su quella da 8 Ohm siamo a circa più 0,6 dB, su quella da 4 Ohm a circa meno 1,5 dB, mentre su un carico da 2 Ohm a 20 KHz siamo sotto di circa 5 dB, il che non è il massimo. Si può intuire quindi che il filtro di uscita del classe D è stato ottimizzato più per i diffusori da 8 Ohm e 4 Ohm e meno per quelli da 2 Ohm e la scelta dei progettisti secondo me è abbastanza corretta. Visto infatti che i diffusori da 2 Ohm sono veramente rari. Teniamo presente poi che visto che l'utilizzo principale di questo amplificatore è per alimentare dei subwoofer, questa dipendenza dal carico sulle altissime frequenze risulta totalmente ininfluente. Infatti forse è più interessante andare a vedere la risposta in frequenza dell'amplificatore configurato in modalità sub, quindi con il filtro passabasso inserito. Le curve che vedete sul grafico sono leggermente meno definite rispetto alla misura precedente perché quando vado ad analizzare contenuti a bassa frequenza il mio sistema di misura diventa leggermente più impreciso. In questo grafico la curva azzurra rappresenta la risposta in frequenza quando il potenziometro della regolazione della frequenza di taglio è impostato al minimo, quindi su 40 Hz, mentre la curva lilla rappresenta la risposta in frequenza quando il potenziometro del crossover è impostato alla massima frequenza, quindi 300 Hz. Le altre due curve è quando il potenziometro è impostato in due posizioni intermedie. Per quanto riguarda l'estensione in basso, la risposta in frequenza arriva tranquillamente fino ai 20 Hz e dopodiché inizia pian piano a scendere, mentre per quanto riguarda l'altro estremo ovviamente dipende dall'impostazione che abbiamo dato al potenziometro del crossover. Veniamo ora forse alla parte più interessante, che è quella della potenza misurata. Con l'alimentatore originale da 36 V e A, l'amplificatore è riuscito a derogare 75 W su 8 Ohm, 140 W su 4 Ohm e ben 210 W su 2 Ohm. Queste sono potenze reali con una THD massima dell'1%. Se proviamo poi ad alimentare l'amplificatore con un alimentatore più performante, in particolare un alimentatore da 48 V 10 A, riusciamo a derogare 130 W su 8 Ohm, 250 W su 4 Ohm e ben 450 W su un carico da 2 Ohm. Ovviamente queste sono tutte potenze che l'amplificatore non può ottenere continuamente. Mi spiego, non possiamo dare all'alimentatore una sinusoide fissa a 200 W o 400 W, perché dopo un po' di secondi ovviamente l'amplificatore andrebbe in protezione termica. Questo è comunque un caso limite, visto che comunque tutti i segnali musicali non presentano delle componenti continue. Viceversa, i segnali musicali hanno molta dinamica, quindi abbiamo dei suoni che richiedono molta energia e subito dopo dei suoni che richiedono poca energia. Quindi quando andiamo ad ascoltare un brano musicale non dobbiamo assolutamente preoccuparci, perché in questo caso abbiamo a disposizione un sacco di potenza. Per quanto riguarda le note d'uso, l'amplificatore è abbastanza semplice da utilizzare. È un po' scomodo perché non ha il telecomando, quindi dobbiamo andare a regolare il volume manualmente. Se lo andiamo a utilizzare come amplificatore per subwoofer, però il volume dell'amplificatore ci servirà solo a regolare il livello rispetto al volume degli altoparlanti, dei diffusori principali. Invece la regolazione del volume di tutto il sistema verrà fatta o da un preamplificatore che c'è a monte, o dall'amplificatore che regola appunto il segnale degli altoparlanti principali. Quindi in questo tipo di utilizzo il telecomando non è necessario. Per quanto riguarda il suono, devo dire che suona bene, le note basse sono belle profonde, non sono molto smorzate ma neanche lasciate andare, quindi il basso c'è ed è un buon basso. Per quanto riguarda invece il medio-alto andremo a analizzarlo nel prossimo video dove lo utilizzeremo in via amplificazione per amplificare dei normali diffusori. Veniamo ora ai voti finali. Per la potenza ho dato un 9, per la risposta in frequenza un 8, per il suono un 8,5, per il design un 7, visto che non ha un design particolarmente originale, è semplicemente una scatola a teglia alluminio nera. Alla versatilità ho dato un 7, visto che non abbiamo ingressi digitali, ingressi bluetooth, non abbiamo neanche il telecomando, però risulta comunque abbastanza versatile, possiamo scegliere infatti se utilizzarlo come amplificatore mono, oppure come amplificatore per subwoofer. Infine per il rapporto qualità-prezzo ho dato un 9. Infatti l'amplificatore, ad oggi che sto realizzando il video, su Amazon si trova a un costo di 89 euro, e applicando la spunta nel riquadro sotto dove c'è scritto coupon, è possibile applicare uno sconto ulteriore del 15%, quindi arriviamo ad un prezzo di circa 75 euro, compreso dell'alimentatore. Quindi il prezzo è veramente buono per questo amplificatore. Vi consiglio però di andare a vedere in descrizione del video, che c'è il link che vi rimane direttamente ad Amazon, in quanto io registro il video qualche giorno prima rispetto a quando viene pubblicato, quindi non so se poi l'offerta sia cambiata, magari il prezzo si è abbassato ulteriormente, oppure si è alzato, quindi andate a controllare. Vi ricordo che il link che metto in descrizione, sono affiliati con Amazon, quindi se passate dal mio link e poi acquistate un prodotto, Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale, mentre per voi il prezzo non cambierà neanche di un centesimo. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie e al prossimo video, che sarà quello riguardante alla biamplificazione, utilizzando due di questi amplificatori.